Salentation è il piacere di incontrare Alessandro, ciao Ale, benvenuto. Buonasera, grazie. Sono stato invitato questa sera. E lo sappiamo. Viene da chi? Indovino? Mi sa che ce l'abbiamo vicina ma non la possiamo ancora riprendere. Oh, Melita chi? Sì, Melita chi? Ale. Allora, il 21 inizia nuova edizione del Grande Fratello. Impressioni, suggestioni? Che ne pensi? Ma tu sei che ne ho detto. Impressioni? Ma io sono contento per chi lo fa. Perché le sensazioni che si provano prima di farlo sono veramente forti. Ale, come è cambiata la tua vita dopo il Grande Fratello? La mia vita è cambiata e basta. È cambiata e ho trovato l'amore. Ma allora, è vero che ti sei trasferito a Milano o no? L'ha trasferito un pallone. Eh? Uno di Roma che si trasferisce a Milano. Noi sappiamo Navigli. Già la Navigli. Sì, sapete male. Davvero? Mi sa di no. Mi sa di no, Ale. Sì. Abbiamo informatori ovunque. Intanto siamo in Alì. Poi magari cambieremo casa, chissà. Ma senti, ha cambiato sto mondo dello spettacolo o no? Cioè... Sto cambiando, piano piano. Sì? Sì, sì. Studiando, facendo cose. Ancora... Tempo al tempo. Ci siamo persi il buon ragazzo romano? De Roma? Perso mai. Buoni ragazzi, non ci vedo mai. Grazie, Ale. Ciao. Ciao.